Allora, praticamente, prima c'era solo il piano sotto e ce ne sono delle casette. Poi Palladio, un famoso architetto della zona, ha costruito anche il piano superiore per abbellirlo un po'. Piazza dei signori Vicenza si accende con l'arrivo delle quattro formazioni di Serie A di Palladolo. Il meglio della Palladolo italiana sta entrando, signori, in Piazza dei Signori. Accogliamo con un grande applauso! Terza edizione della Palladium K. E oggi a Vicenza, Conegliano, Modena, Novara, Bergamo, le stelle del volley italiano, il meglio della Palladolo nazionale. Farremo lavorare queste ragazze e quindi scatta l'ottotazione Flash Mob e quindi fuori palloni! Musica 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti